La scorsa settimana ad Agropoli, località Selva, sono stati trovati dei rifiuti di vario genere, persino un servizio igienico e una borsa piena di documenti rubati. Dopo la segnalazione effettuata dal gruppo di guardie ambientali dell'ANITA all'Associazione Genesi dell'Ambiente, presieduta da Gerardo Scotti, i volontari giunti sul posto hanno ripulito tutto. La zona è molto impervea e ha chiesto l'uso di corde di sicurezza, decespugliatori e maceti per arrivare a pochi punti interessati dalla segnalazione, afferma Gerardo Scotti, il terreno in pendenza e colmo di ogni genere di rifiuto pericoloso. Se l'uomo imparasse a rispettare la natura, probabilmente non si avrebbero questi gravi problemi di inquinamento, che hanno un impatto negativo sia sulle biodiversità e specie non umane, sia sull'uomo in sé, in quanto i cibi che arrivano sulle tavole sono nocivi. Lo scorso anno, inoltre circa questo periodo, anche in alcune zone della contrada Moio ad Agropoli, le guardie ambientali, su segnalazione di un privato cittadino, si recarono sul posto e ritrovarono rifiuti, borse e zaini di turisti derubati con all'interno diversi documenti.